Tanti cliché come il discorso dell'ispirazione, ma come se l'ispirazione fosse un momento che tu sei così, arriva la luce, entra la luce dalla finestra e tu dici ho l'idea della vita, ma certo che l'ispirazione esiste, ma come dice Picasso ti deve trovare al lavoro, cioè non puoi stare seduto ad aspettare l'ispirazione, cominci a lavorare, cominci a mettere anche un'idea banale sul tavolo, ma poi arriva.